Chiude il laboratorio di Matera di compatibilità trasfusionale, lo fa sapere il consigliere regionale di Basilicata Oltre, Giovanni Viziello, se il 2022 è un anno da record per l'Italia per la donazione di organi e tessuti, il 2023 comincia male per la Basilicata. Un passo indietro della sanità materana che continua a perdere pezzi nel silenzio assordante dei vertici e asma, denuncia Viziello. La decisione del Registro Nazionale Italiano Donatori Midollo Osseo di stoppare l'attività del Centro Sanitario Materano per mancato possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente non è stata senza dubbio come un fulmine al ciel sereno, spiega, e solo il tempo dirà quanto questa chiusura potrà incidere negativamente sull'attività di donazione dei tessuti. Auspichiamo un pronto intervento dell'assessore Fanelli e del presidente Bardi e conclude l'esponente di Basilicata Oltre, diretto a ripristinare un servizio di eccellenza e a rimuovere dagli incarichi i responsabili dell'attuale deriva della sanità.